La fotografia di Giuseppe Cavallo, elogio della composizione, è il primo appuntamento della stagione artistica di Palazzo degli Arti Beltrani. Si concluderà il 31 maggio, la Regione Puglia sempre a fianco di questi grandi appuntamenti con la cultura. Sì, abbiamo presentato la programmazione di Palazzo Beltrani non più di 15 giorni fa e quindi sono contenta di inaugurare il primo di questi eventi culturali che vanno a qualificare l'offerta turistica della nostra provincia. Sono di ritorno da pochi giorni dalla Cina dove anche lì è stato ribadito quanto la cultura può migliorare l'offerta turistica, può attrarre turismo ma non solo perché attraverso la cultura si promuove la conoscenza di una terra con tutti i suoi elementi identificativi e identitari. Noi stiamo puntando molto come Regione Puglia sulla vocazione culturale di questa regione e devo dire che Palazzo Beltrani con Ichi Battaglia ci dà un aiuto fondamentale per promuovere ancora di più quella che è la conoscenza della nostra provincia e della nostra terra.